eccoci ragazzi tornati con un nuovo ed unesimo video io sempre con i capelli più sconvolti allora oggi andiamo ad aprire un'altra bustina perché abbiamo già aperte di questi qua lego ninja movi sempre alla ricerca di questa qua che non so come ti chiamo al momento quella con le trecce comunque quella con le trecce pastelli andiamo ad aprire abbassa che non vogliono vedere cosa abbiamo trovato aspetta che non te lo dico vediamo abbiamo trovato questa che noi praticamente siamo stati lì a tastare a tastare ma non è servito a niente no perché effettivamente non è così semplice come sembra pure genese time che l'ha trovata facili facilmente mi veniva la parola io non riesco invece questa cosa è una sottospecie di dottoressa non so c'è anche la borsa una dottoressa peluche si dottoressa peluche aspetta solito pistallo ecco qua non so chi sia comunque va bene è sempre una donna però niente ragazzi nada neanche questa volta bene ragazzi riuscirò mai a trovarla ma chi lo sa prima o poi uscirà no guardate quanto è carina si vede si vede guardate qua quanto è bella colore pastello va bene ok neanche stavolta abbiamo trovato lei noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao